Signore, è il momento? Aspetta. Vai! Bello, ci piace, prossimo. Di più, di più! Subito, signore! Mi piace dove sta andando la tua mente, mio caro. Signore, io avrei un'idea per una cosa più diversa. Non mi piace e sono offeso che tu me l'abbia fatto vedere. Certo, è stupido, no? Bravo, questo sarà il nostro biglietto per la lotteria.